E' il più importante appuntamento di scambio di incontri one to one sull'innovazione in ambito scientifico e tecnologico tra l'Italia e la Cina. Una settimana dedicata alla tecnologia dei due paesi per favorire partenariati produttivi e commerciali nel contesto della ricerca dell'impresa, con un occhio di riguardo alla qualità ed all'alto valore aggiunto nell'innovazione. La prima tappa a Napoli, con una due giorni organizzata da Città della Scienza, cui partecipano oggi e domani 150 tra i più importanti centri di ricerca, imprese, università ed altri protagonisti provenienti da otto province e tre municipalità cinesi, che hanno trovato ad accoglierli anche la mostra sulle invenzioni rivoluzionari dell'antica Cina. La Cina-Napoli è Napoli in Cina, nel senso che abbiamo una serie di rapporti fra la città di Napoli e la Repubblica Cinese, in particolare con la città di Pechino, tali da costruire uno scambio permanente di rapporti e di esperienze, e quindi direi un ottimo percorso già avviato, peraltro con una presenza importante della comunità cinese nella nostra città. Rispetto alla costituzione di incubatori di imprese abbiamo una serie di rapporti già avviati con la città di Pechino, una nostra delegazione circa 15 giorni fa si è recata presso quella città, che a mio avviso ci mettono nelle condizioni rapidamente di sottoscrivere un protocollo, prevedere investimenti e insomma mettere piedi su terra ciò che serve per uno scambio reciproco di tecnologie, di esperienze e di investimenti.